They can call me whatever they want, so what if I am crazy Attenzione, Luca, trattino basso, Goffi04 Andatemi a seguire su Instagram, ragazzi, come potete vedere qua, mi chiamo Riccardo Menzoline, trattino basso, ecco qui, ha anche messo a fuoco Mi raccomando, ragazzi, andatemi a seguire su Instagram, fatelo, fatelo, fatelo Allora, signori, oggi cosa andiamo a vedere? Simuleremo la partita contro lo Swans, sì, anche se non lo so in realtà Vediamo un attimo, vediamo un attimo come siamo messi in classifica Perché siamo ospiti, ragazzi, andiamo a giocare la partita contro lo Swans Non vogliamo rischiare perché c'è quel Manchester City lì che è pericoloso Almeno, se faccio una brutta figura contro lo Swans, posso dire è colpa mia È colpa mia e a quel punto lì sarebbe ben diverso Allora, è tornato Kane, quindi direi che lo possiamo assolutamente mettere in campo A destra Bale è leggermente stanco Potremmo mettere Lucas, che mi sembra un pochettino più in forma Zelinski invece è molto stanco Winx come è messo Mettiamoci Wanyama, va? Ah no, Winx è in campo, scusatemi Mettiamoci Wanyama, fammi vedere Lanzini Potrebbe fare pure il CC Ma per il momento starei così, raga Andiamo in campo, signori Per giocarci questo match sempre sul pezzo Forza Tottenham Delle alli Per l'alto hanno Martinez, attenzione perché Martinez è entrato in aria, mantiene il passaggio del pallone Raffaele, mamma mia, come ci dà Come tiene sul pezzo Martinez Grimaldo, poi la gioca Winx Wanyama, vediamo se il Tottenham riesce a creare un'azione avvolgente Wanyama ancora, Winx Di prima attenzione per Dele Alli Kane, bellissimo lo scambio Dele, mamma mia, fuori di poco Ci rispera anche l'inglese Bella azione, proprio quello che ci serviva per cercare un'azione pericolosa Mamma mia, fuori di veramente, ma veramente poco Dele Alli, fa salire Lucas Moura Tezzelio Lucas Moura è in seguito da Silva Moura, si fa vedere Dele Alli Il pallone non è perfetto, viene deviato E qui fortunatissimi Qua fortunatissimi perché il pallone finisce sui piedi Sul destro Diabolico di Dele Alli Che non perdona e la butta dentro E qui si può solo dire una cosa Fortunati E vediamo qua, il pallone di Lucas era tutt'altro che perfetto Veramente brutto brutto Il numero 28 dello Swansea se l'ha a Matt, tra l'altro Se la ritrova sui piedi Poverino, in realtà ci poteva far poco Kane, un altro rimpalo fortunato Anche una deviazione sul tiro dell'Uragano Il portiere fa un'ottima parata Dele Alli per Lautaro, attenzione Lautaro Martinez, contropiede fenomenale del Tottenham Martinez si gira, Martinez Entra in aria, Martinez Ancora Lautaro, il destro di Lautaro Che spacca la porta Finalmente Lautaro Martinez Azione che fa di consueto ragazzi Quella di rientrare sul destro Sicuramente gli riesce meglio Il tiro a giro Più che il cross di Mancino Qui mette in castagna Due difensori Poi col destro Sembrava a un certo punto Avesse perso il tempo Ma non è stato così Non lo faccio uscire Lautaro Martinez 2-0 E forse partita chiusa Attenzione a questa ripartenza Dele Alli C'è dall'altro lato Lucas Dele Alli L'allarga adesso per Lucas Moura Lucas Moura di nuovo per Dele Alli Ottimo il contropiede del Tottenham Dele Alli per Lucas 3-0 signori L'abbiamo rischiato un po' Ci stava onestamente Sul 2-0 Sul 1-0 non avrei mai fatto Questa cosa qua Vi dico la verità Qui ho rischiato tantissimo Avrei potuto tirare Con Dele Alli Tra l'altro Lucas qui Gli ha tirato pure in bocca Allora io farei dei cambi In questo momento Dato che siamo sul 3-0 Li faccio tutti Fuori Lucas Dentro Si so come Togliare Zabal Al posto di Lautaro Martinez Toglierei anche Dele Alli Metterei Lanzini Occhio qua Eh però Schmeichel Non ne piglia una ragazzi Schmeichel non ne prende una Gran gol di Gerard Qui subito sulla ripartenza Dello Swans Ci sono stati bravissimi Però Rivediamo Probabilmente ci poteva far poco Vi dico la verità Però non oppone mai resistenza Non oppone mai resistenza Raga Forse è deviata anche da Toby No Non sembrerebbe Però Schmeichel Non la prende mai Raga Era ravvicinato Però Non la sfiora neanche Lanzini Subito così Attenzione per Harry Kane Cerchiamo di ristabilire Subito le distanze Ed è così 4 a 1 signori Tottenham infermabile In questo momento Harry Kane L'Uragano Veramente veramente Gran cosa fatta da Lanzini Raga Guardate come si è andato bene Penso anche con tunnel Poi gran pala per Kane Che tira di destro Infallibile Finisce qui dunque signori Battiamo lo Swans 4 a 1 Ho fatto bene a giocarla Chissà come sarebbe andata Se l'avessi simulata Probabilmente simuleremo Quella dopo con il Bar Mouth Adesso Guardate qui Direi partita dominata Meritata Ce la siamo portati a casa Con merito Adesso però raga Testa Alla partita di Champions Perché abbiamo il ritorno Degli ottavi di Champions League Contro il Red Bull Lipsia Perfetto Andiamo in campo Con la formazione titolare A parte per Kane Ragazzi Che è espulso È squalificato Quindi al suo posto Carter Vickers Andiamo in campo Sempre sul pezzo Forza Tottenham Dai ragazzi Schmeichel tra l'altro È calato ulteriormente A 79 Non è più un gran portiere Non lo so Però Non ha un overall schifoso Insomma Un portiere che ha 79 di overall È ancora È ancora decente Ecco Ricordo ragazzi Che è finita 2 a 1 L'andata In casa del Red Bull Lipsia Quindi Diciamo che La qualificazione Ai quarti Pende più dalla nostra parte Però Attenzione perché Come ben sapete Nel calcio Può succedere veramente di tutto Attenzione Augusten La pala per Amat Qui Schmeichel ci mette una pezza Col piede La sua classica Uscita bassa Un po' da calcio a 5 Molto bene Qui Schmeichel Kane fa salire Garrett Bale Attenzione Bale Se la mette sul mancino Bale La può mettere in mezzo Adesso Un po' arretrata Dove arriva Winks Attenzione perché Forse arriva delle ali No Gli va bene il calcio d'angolo Che batterà Piotr Zelinski Sul primo palo Dove c'è Bale Che stacca E sblocca il match Al ventesimo del primo tempo Garrett Bale Signori Che cazzo fa Fare Cioè fa così Fa così Pazzai il cuore è merda Va bene Fa lo stesso 1 a 0 per noi 1 a 0 per noi Qualificazione sempre più vicina Ottimo il calcio d'angolo Battuto da Zelinski Bello morbido Sul primo palo Stacca prima di tutti Garrett Bale Attenzione qui Il pareggio Subito Di Amat Incredibile Istantaneo il pareggio Ragazzi Non ci voleva Il gol subito Fuori casa Bravissimi Quelli del Red Bull Lipsia Ottima palla In profondità Per Amat Che ha tirato Di prima intenzione Un bel sinistro a giro Vogliamo rivederla Però Fabio Qui ottimo Inserimento di Amat Non c'è nulla da dire Ottima palla Imparabile per Schmeichel Ha provato a chiudere Tra l'altro anche Tobi Si è girato tutto Ad Amat Imparabile L'ha messa proprio là Nell'angolino Dove non poteva arrivare Schmeichel Quattro minuti dopo Già In giaie Già giù Amat Detto anche La pareggia Delle alli Per Bale Che aveva tenuto Prezionantemente Una palla In campo Stratosferica Ancora delle alli Che rietra sul macino Delle alli È passato Non so come La palla arriva A Kane No Rose La mette fuori Finisce qui il primo tempo Signori 1-1 Tra Tottenham Red Bull Lipsia È una bella squadra Ragazzi È una bella squadra Si riesce A chiudere bene E a ripartire molto Ma molto Velocemente Attenzione Rashica Rashica Carter Vickers Chiude tutto Stiamo soffrendo Raga Stiamo soffrendo Prendere Prendere gol Non ci starebbe proprio Attenzione Non guffiamocela Emre Can Bravissimo Zelinski Attenzione Arashica Ancora Carter Vickers Con un Chalance No Lautaro E basta Però ragazzi Mamma mia Cioè Mai una volta Che ci arrivi Sto cazzo di portiere È possibile Che Amat L'abbia messa Di nuovo Lì Nell'angolino Qui Lautaro Martínez Bo Usa Adurmente Imparabile Imparabile Sto cavolo Di Amat L'ha messa Ancora lì Sto cavolo Di Amat L'ha messa Ancora lì Cioè L'hanno rivoltata Ragazzi Incredibile L'hanno rivoltata Attenzione Da Amat Il palo Vabbè Dai ragazzi Ma di cosa Stiamo parlando Ma di cosa Stiamo parlando Cancelo Oh Cioè Sto Sto Cristiano Qui Possibile Che la metta Sempre dove Vuole lui Lautaro Martínez Per Grimaldo Grimaldo La può mettere In mezzo Dai Bale La pala Resta lì Il sale ritrova Tra le braccia Farignes Non ci posso Credere Che occasione Per il Tottenham Dele Per Lautaro Dai Lautaro Dai Lautaro Non ce la fa più Lautaro La mette in mezzo Wings Per Dele Alli Che spacca tutto E pareggia i conti Ma così passiamo noi Signori Così passiamo noi Dele Alli Con suo solito destro Sì Mamma mia Che sofferenza Che sofferenza Qui Lautaro Martínez È stanchissimo L'autaro È stanchissimo Ottimo il pallone Di Wings Kane si sposta Io toglierai Martínez Vi dico la verità Toglierei Martínez Metterei Hoyer Zabal Eccolo qui Perché Martínez Non ce la fa più Qui l'ha controllata Intelligentemente Però Fa veramente Tanta fatica Adesso a ripartire Primo cambio Del mezzo Tra l'altro All'ottantaseiesimo Occhio Versalico Raga Prendere gol adesso Significherebbe Non passare Cancelo Cancelo No Perché Rascica Il tiro Schmeichel Questa volta ci mette le mani Questa volta Schmeichel Ci mette i manoni E qui ci vuole qualcuno Per saltare Raga Io tolgo Wings Vi dico la verità Tolgo Wings Metto Waniama Ci vuole qualcuno Che lì in mezzo All'area Faccia un po' di Un po' di casino Infatti guardalo Lì Wings Come marca C'è anche Farignes In mezzo No raga Sul primo pallo No Schmeichel Carter Vickers Ti amo Carter Vickers Ti amo Però c'è stato un fallo Ma Carter Vickers Ti amo Ti amo Sposami Ti prego Che cosa ha tolto Che cosa ha tolto Carter Vickers È finita signori Andiamo avanti noi Andiamo avanti noi Ma che partita Abbiamo rischiato Di non passare il turno Abbiamo rischiato Di non passare il turno Contro questo Lipsia Veramente Veramente Agguerrito Di sicuro Non arrendevole Ottima la parte di Schmeichel Oggi Schmeichel Si è comportato bene Ha preso dei gol Dove poteva fare Assolutamente poco È stato bravissimo Amat E bravissimo Schmeichel In alcuni frangenti Come la parte che abbiamo visto lì Attenzione L'Udinese 4 a 4 ragazzi Passa l'Udinese Così scusatemi Eh bisogna vedere Se era fuori casa o meno Raga onestamente Bisogna vedere Se era fuori casa o meno Non so chi ha giocato in casa Prima o dopo 4 a 4 Cavoli Cavoli Magari sono andati supplementari Boh Che spettacolo Raga Veramente Veramente Un grandissimo Passaggio del turno Questo Andiamo a vedere subito il tabellone Premio torneo 6 milioni Molto bene Ok raga Io questa partita Contro Il Bournemouth Me l'andrei a simulare Scusatemi Faccio la formazione titolare Mettiamo Martinez qui Mettiamo Kane In attacco Che mi ha chiesto di giocare Assolutamente Perfetto signori Formazione fatta Ci andiamo a simulare la partita Contro il Bournemouth Con questa Con questa formazione Dunque abbiamo 8 punti Di distacco Dal Manchester City Raga Attenzione Quindi Prendendo qualche punto Al Bournemouth Qui sarebbe molto importante Perché abbiamo una partita in meno Dai dai raga Dai Lottate Vi prego Tra l'altro 4-4-1-1 Per il Bournemouth Quindi una formazione Abbastanza tosta Da superare E subito Si mettono bene le cose Perché si fa buttare fuori Cook E Kane segna Però veniamo presi Da Fob Mamma mia ragazzi A Fob che si fa male Bale La pareggia subito Mamma Quanto è baggata La simulazione Su sto gioco Veramente clamoroso Esce Alderwild Ed entra Royar Zabal Cioè ragazzi È uscito un centrale La volevamo vincere Ma non ci siamo riusciti Cioè Ha segnato bene Alla santa tresimo Alla santa quattresimo Ha palizzato Simon Incredibile Comunque abbiamo preso Un punticino Al Manchester City Che non va Assolutamente male E direi che potremmo simulare Anche quella Quella con il Wall of the Rampton Signori Capitemi Capitemi Cerchiamo di andare Un po' più spediti Victor Wanyama Si lamenta Di un ruolo nel club Che Non si deve lamentare Wanyama Assolutamente Allora raga Direi di andare a vedere Anche Appunto Il tabellone Di Champions A questo punto Questa è l'Europa League C'è l'Inter Contro il Sevilla E l'Udinese È passata Contro il Chelsea Raga Adesso incontrerà Il Manchester City E noi siamo contro Il Monaco Che ha battuto Il Barcellona Monaco Che ha battuto Il Barcellona Ragazzi Attenzione Attenzione Perché di là è passato Anche il Milan Che ha battuto Il Paris Saint Germain Come sappiamo Il Milan È forte È forte Ce lo ricordiamo Dalla carriera Con l'Udinese Allora Qui dato che dopo La partita Abbiamo Quella con L'Arsenal Il Monaco Lo sfideremo Nel prossimo video Direi che questa partita La simuliamo Con una formazione Un pochettino Rivisionata E infatti L'undici per questo match Sarà questo qui Ragazzi Lo andiamo A provare subito Siamo in casa Contro il Wolverhampton Speriamo bene Speriamo di riuscire A farci questi tre Punti Tra l'altro Hanno vinto Contro il Manchester City Quei del Wolverhampton La sblocchiamo subito Con l'Anzini Raddoppio Di Lucas Moura Non me l'aspettavo Onestamente Cerchiamo di tenere Il risultato Sarebbero tre punti Importanti Wanyama 3-0 La chiude 4-0 4-1 Maffeo Maffeo Ha segnato E poi Pier Gabriel Per i Wolves Bene ragazzi Tre punti In saccoccia Adesso Partita molto importante Contro l'Arsenal E poi ci salutiamo Signori Andiamo a giocare Questa partita Contro l'Arsenal Con questo Undici Che è praticamente Quello titolare Direi assolutamente Si tranne Carter Vickers Che comunque Sta facendo veramente Una grande stagione Andiamo in campo Dunque Sempre sul pezzo E forza Tottenham Attenzione qui Questo buco Lasciato dalla difesa Dell'Arsenal Il terzino è molto alto Belli col destro Prova A sbloccare il match La colpisce malissimo Come ben sappiamo Non è il suo piede Il destro Non impenserisce Neanche troppo Il portiere Molto larga Devo dire Questa palla Cancelo Per Harry Kane Attenzione a Harry Kane Se la mette sul macino Kane Bravissimo Kane Horn Miracoloso Miracoloso Pensavo potesse entrare Addirittura Anche dopo la deviazione Del portiere Rivediamo Quando la sfiora Joe Cancelo Grande parata di Horn Attenzione a questa palla Di Wings Per Kane Kane Se avete sul destro Ancora Harry Kane Bravissimo Col Asinac Col corpo Si trova lì Si trova sulla traiettoria Del pallone Che stava Che era uscito Dal piede destro Di Kane Veramente a bomba Delle alli Attenzione Perché si era inserito Harry Kane Ho perso l'attimo Delle alli Serve adesso Molto bene Martínez Guarda San Maxime Come torna Martínez Si prova Col mancino Horn Probabilmente la togli Dall'incrocio Signori Grande parata Del portiere tedesco Rivediamo Eh raga Questo è un miracolo Questo è un miracolo Occhio qui Abbiamo fatto male Il fuori gioco San Maxime Davanti a Schmeichel Grande Casper Schmeichel Veramente una grande parata Rivediamo qua Mamma mia Tanta roba Finisce qui il primo tempo Signori 0-0 Pareta bloccata Occasioni da una parte Dall'altra Forse più per noi Onestamente Però anche Lars Ha avuto qualche Qualche occasione interessante Però È dura È dura Attenzione a Grimaldo Che taglia tutto Il campo Martínez Martínez La sblocchiamo noi Che fatica però ragazzi Per farlo Al 68esimo Lautaro Martínez Col destro Guardate qui Grimaldo Non lo tiene nessuno L'appoggia Martínez Che col destro Quasi un driven shot Per lui Buca Timohorn Occhio qua Al palo Fortunati anche Molto fortunati qui C'è una zanzara Porco Dias Porco Attenzione a Brandt Che se ne va Grimaldo Mamma mia Ormai Carter Vickers Stecca brutalmente Brandt Attenzione alla ripartenza Del Tottenham Con Dele Alli Che sta dormendo Veramente un sonno Profondissimo Occhio qui Giocan Se lo chiude bene Winks Per Lautaro Attenzione a Lautaro Martínez La mette in mezzo Dove arriva Yerzabal Chiuso Da Colasinac Veramente Ma veramente Un grande intervento No L'ha preso Yerzabal Signori Incredibile Kane Per Martínez Che aspetta L'avanzamento L'avanzata di Winks Winks ci riprova Dove c'è Yerzabal Che non riesce A chiudere il match Perché si trova davanti Davvero un ottimo horn Ma finisce qui Signori Tre punti in saccoccia Il Tottenham batte L'Arsenal 1-0 Che partita È stata veramente Veramente complicata Per noi Siamo stati Bravi e fortunati Devo dire Bravi e fortunati Però Abbiamo fatto qualcosina Di più dell'Arsenal Perfetto signori L'episodio Finisce qui Spero ovviamente Vi sia piaciuto Secondo me è stato davvero Davvero molto interessante Come video Dele Alli è contento Di giocare Non so onestamente Perché fosse preoccupato Dato che gioca Tutte le partite Ogni volta Come potete vedere Stiamo prendendo punti Al City Perché iniziano a essere Veramente ma veramente Tanti Veramente ma veramente Tanti Il City ha perso colpi Ragazzi Non pensavo così tanti Non pensavo assolutamente Così tanti Perché sono 12 Raga Sono 12 punti Addirittura lo Stock City L'ha superato Mamma mia Incredibile Raga Probabilmente Il campionato Potremmo un attimo Lasciarlo stare Direi che magari Nel prossimo episodio Ci giochiamo Everton Monaco Monaco E Liverpool Potremmo fare questa cosa qui Mi sembra La cosa migliore da fare Raga Detto questo Lasciate un mi piace Un commento Un consiglio Spero ovviamente Questo video vi sia piaciuto Un saluto da me E ragazzi Ciao a tutti ragazzi